Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui dalle sale del casino di Porto Maso, come vedete il terzo livello di gioco, appena iniziato a dire il vero, con i bui che sono saliti a 75-150. Ottimo il numero degli iscritti con 202 giocatori che hanno deciso di partecipare a questo Day 1. Come vedete i tavoli sono ancora gremiti, anche se qualche giocatore ha iniziato ad abbandonare il gioco, in particolare sono 8 i giocatori eliminati in questo primo scorcio di giornata. Vi ricordo che si giocheranno 4 livelli per poi andare in pausa cena, dopodiché si riprenderà fino a circa mezzanotte. Noi ci diamo appuntamento su Poker Italia Web per tutti gli aggiornamenti della sala, come sempre il buon poker è compito. Ciao a tutti! Ciao! 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 ! Ciao! 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 Ciao!